Continuano i lavori sulla strada provinciale 330 che dalla zona industriale di Teggiano porta all'innesto della A2 del Mediterraneo a Sala Consilina, un'arteria che da molto tempo necessita di interventi di fondamentale importanza per le attività dell'insegnamento industriale e per chi da Monte San Giacomo, Sassano e la stessa Teggiano deve raggiungere l'autostrada. È molto frequentata che negli anni ne ha causato l'usura con buche e avvallamenti che l'hanno resa sempre più pericolosa da percorrere. L'intervento di Teggiano, spiegano dalla provincia di Salerno, ammonta a 151 mila euro, quello di Sala Consilina a 154 mila e 500 euro. I lavori consistono nella rettifica di quattro curve e l'allargamento della piattaforma stradale a 14 metri e mezzo, realizzando una strada di tipo F2 con due corsie per senso di marcia della larghezza di 3,25 metri con banchina laterale di un metro e relative opere idrauliche. Ad oggi sono stati eseguiti i lavori di sbancamento, sistemazione del piano di posa rilevato, la posa del TNT geotessile, il riporto per la creazione del corpo stradale nei tratti di allargamento e rettifica, una prima stesura di misto granulometrico per chiusura della parte superiore del rilevato. Successivamente si procederà alla stesura della sottofondazione, sempre in misto granulometrico, dopodiché alla stesura della sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso costituita da tre strati. Era lo scorso febbraio, nel corso di una conferenza stampa, quando era stato ufficializzato l'inizio dei lavori, poi il blocco a causa dell'emergenza Covid e a giugno l'ordinanza di chiusura da parte della provincia di Salerno proprio per l'esecuzione dei lavori di rifacimento e messi in sicurezza dell'arteria attesi da lungo tempo.